Questo è il tempio della dinastia Kova a Tanjabur o Tanjor, nome inglese, nel Tamilnadu centrale, sud dell'India. Risale al mille circa d.C. e la sommità della copertura è un monolite trasportato da centinaia di chilometri di distanza, come tutto il materiale che costituisce il tempio. Per la sua costruzione venne usata una tecnica simile a quella delle piramidi, con rampe di accesso di 4 km di lunghezza. Se la cavavano piuttosto bene con la tecnologia questi primitivi. per la sua costruzione. Per la sua costruzione. Per la sua costruzione. Grazie a tutti 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 Grazie a tutti